Ciao ragazzi bentornati in questo nuovo video, io sono OneSaniTube e vi do un benvenuto in questo canale Prima di tutto iscrivetevi al canale attivando la campanellina in modo tale da restare aggiornati su ciò che pubblico in questo canale Mettete tanti pollici in su per supportare il canale, supportare i contenuti che pubblico in questo canale E parlo per tutti i tifosi, iscrivetevi tutti ragazzi, come ve lo dico a fare siamo 62 iscritti Ma li vogliamo aumentare, li vogliamo aumentare, quindi parlo per tutti voi Milanisti, Juventini, Interisti, Napoletani, Bergamaschi, Laziali, Romanisti, Fiorentini, Bolognesi Non vi costa nulla il canale, è gratuito, come ve lo devo dire E inoltre ragazzi c'è la campanellina Attivatela, attivatela, non vi costa nulla Poi, poi Contenuto di oggi Post partita Eh sì ragazzi Post partita Dato che comunque Quella di ieri, la partita di ieri Milan-Napoli ragazzi 1-0 Eh, eh, che devo dire Che devo dire Sè, sì, sì, un'altra vittoria sofferta Sè, un'altra vittoria sofferta Sè, un'altra vittoria sofferta Un'altra vittoria sofferta Yeeeh, sì Oh mamma mia Ma voi mi volete mandare in ambulanza? Mi volete mandare all'ospedale? Mannaglia ragazzi, oh, mannaio Veramente 1-0 No, è un risultato allegriano Ma non è possibile Se non è clean sheet È cortomuso È cortomuso Cioè io non lo so Cioè se non è per Devo sempre soffrire all'ultimo Ma non è possibile Non è possibile ragazzi Non è possibile Parlando del Della prestazione Allora Il gol dell'1-0 Al venticinquesimo minuto Diciamo che nasce Nasce comunque Sull'assist di Leao Leao Fa solo assist In questa stagione Non ha Il gol di Leao Non arriva da Da settembre Contro la Roma E Se non sono gli attaccanti A segnare Segnate Fernandez Giustamente Giustamente All'asse Leao Teornandez Abbiamo vinto la partita L'abbiamo vinta Merito anche a Napoli C'è da dire C'è da dire Merito anche a Napoli Perché comunque Il modulo del 4-3-3 Un modulo abbastanza Diciamo Che ci ha messo un po' in difesa Cioè che ci ha messo un po' in difficoltà Però di contropiede comunque Noi abbiamo cercato di Raddoppiare Soprattutto nel secondo tempo Cosa che Napoli comunque voleva Cioè Non riesce a fare il pareggio Però un pareggio A San Siro comunque Che stava Dato che comunque Non Cioè Mancava ancora qualcosa Per Spiccare Ancora di più E Per quanto riguarda I singoli ragazzi Cosa dovrei dire Ma Mi devo dire C'è Teo Otto Assolutamente Teo Miglior terzino Cioè non posso dire Che ha un miglior terzino D'Europa Perché comunque Ci sono Vabbè C'è quello lì C'è Ce ne sono altri Però Uno dei migliori Può essere Cioè uno dei migliori Sì Uno dei migliori Sì Però Migliore terzino D'Europa Non direi Non direi Per quanto riguarda Magnan Ragazzi Ottimo Ottimo Perché ha fatto comunque Delle grandi parate Premis Quella su Politano Che ricordo Nel secondo tempo Nel secondo tempo E anche Quella parata Su Simeone Nei Nei primi Dieci minuti Poi Per quanto riguarda La partita in sé Ragazzi C'è Noi però Non possiamo Sempre subire Così Ok Che abbiamo Fatto L'uno A zero Però Qua bisogna C'è da dire Merito anche a Gabbia C'è da dare anche Merito a Gabbia Perché ha fatto Una grande prestazione Contro il Napoli E poi Cos'è altro da aggiungere C'è altro da aggiungere Però Sì Sono tre punti Sono tre punti Fondamentali Tre punti fondamentali Che Vedono 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 In vicinanza Davanti La Juventus Che oggi Comunque ragazzi Ci faremo La live reaction Juventus Udinese E faremo anche Il secondo episodio Il secondo episodio Di spacchettamento Cacciatori Panini Non so Pomeriggio Però Pelo meno Verso La sera Probabilmente Perché a pomeriggio Non ci sono Sono Lavorere E Per quanto Riguarda Il discorso Europa League Ragazzi Non è tosta Però C'è un avversario Abbordabile Ora guardiamo Dove Dove sta Ren Attualmente Così almeno Capiamo Un po' Capiamo Un po' Aspettate Ragazzi Un attimo Un attimo Allora Come era Aspettate Ren Che ha battuto Certamente Ren Ragazzi Ha battuto Leavra 1-0 Ieri Quindi È settimo È settimo Nel campionato Della Ligan È settimo Quindi Noi terzi Attuali Abbiamo blindato Il posto Champions Ren Che è settimo Allora L'andata Ragazzi Si giocherà Sul siro Comunque Perché C'è il 15 Si giocherà Il 15 Giudi E il ritorno Si giocherà Il 22 Stadio del Ren Non sarà una passeggiata Se giochiamo Come Se giochiamo Come facciamo C'è nel senso Contro Se giochiamo Solo per Avere possesso Palla E basta Questi qua Ci potrebbero Dare fastidio Dico Potrebbero Darci fastidio Però se giochiamo Con mentalità Un po' più aperta C'è nel senso Con mentalità Più Vincente Possiamo farcela Naturalmente Rispetto Ren Lo rispetto E È un avversario Di tutto rispetto Ora La cosa che mi preoccupa Ragazzi Vinciamo Ci andiamo agli spareggi Ok Per andare agli ottavi Di Europa League E mo Chi beccheremo E lì sarei proprio curioso Vorrei evitare Naturalmente Liverpool E Leverkuser Ragazzi Questi qui sono Due squadroni Due squadroni Sono Poi Per quanto riguarda Ok Smetto di dire Per quanto riguarda Perché È stressante Poi Diciamo Ritornando alla partita Comunque Milan-Napoli C'è Questo è Questo È un risultato Comunque Giusto Potrebbe O non potrebbe Però È importante È importante Averla portata In casa Naturalmente I tre punti E In cassaforte Poi tra l'altro E Naturalmente Oddio ragazzi Un attimo Dicevo Tre punti I cassaforte E Vabbè Testa giovedì Testa L'Europa League Bisogna pensare Solo L'Europa League Perché Ragazzi Il Milan Ha solo L'Europa League Come priorità Perché Naturalmente Distanziati Da Juventus E Milan Con l'Europa Però Dall'Inter Juventus E Inter Ci siamo Diciamo Cioè Dall'Inter Siamo Un po' Distanti Rosica Un botto Lo so Rosica Un botto Perché Questi qua Potrebbero Già Prendere La seconda Stella Maggio Rosica Un botto Rosica 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 Punteremo Almeno Per una Obetizione Punteremo Per l'Europa Il dato Che comunque Il posto Champions Penso Che l'abbiamo Già Blindato Almeno Per il 70% L'unica Nota Dolente Potrebbe Essere L'Atalanta Ragazzi L'Atalanta L'Atalanta Che Che potrebbe Fastidirci Perché l'Atalanta Ragazzi Può essere un pericolo Può essere un pericolo Perché Ha Spraccellato Genoa Ha Spraccellato Frosinone Quindi ragazzi Di questo Stiamo parlando E poi E poi Pioli Io parlo Di Pioli Pioli De Ketelar Non è un bidone De Ketelar Non è un bidone 8 gol 8 gol In Serie A E 7 Assis Ma di cosa Stiamo parlando De Ketelar Rinato Ma di che De Ketelar Rinato Ragazzi Cioè È Ispiegabile Sta cosa Non penso Siano Per i colori Che veste Della maglia Non penso Siano per questi Anche se Quelli del Club Rouge Erano gli stessi Di quelli Dell'Atalanta Di quelli Lato Vabbè Ci vediamo Dopo Per spacchettamento Gacciatori Panini Ragazzi 2023-2024 Secondo episodio Intanto Iscrivetevi al canale Attivando la campanellina E lasciate tanti pollici In su Per Supportare Questo canale Parlo per tutti I tuposi Iscrivetevi Milanisti Ventini Interisti Laziali Romanisti Napoletani Bergamaschi Fiorentini Bolognesi Non vi costano Là il canale Gratuito Da OneSanitube Tutto Ciao